funziona ok perfetto oh torniamo in live perfetto bentornati benissimo benissimo eh si sono tornato a farle guai su impero sempre ottimo come si faccio così? perfetto diventa tipo minuscolo in live ma perché? perché? eh diventa minuscolo si perché riduci l'icona cioè riduci la finestra oh oh teo buongiorno vedi cosa che mi sono dimenticato io la chat devo mettere la chat la chat la chat la chat è essenziale perché la vedi la si vede così tutto quanto teo sono tornato a farle sono tornato a farle whitelist e già questo è un problema e in volte tutto le sto facendo in live quindi top vedremo un po' come lo mettono lo mettono nel per adesso ho paura oh teo buonasera buongiorno teo siamo pronti per fare le whitelist come vecchi tempi ehm si si la quanta che non fai la whitelist teo io non so neanche il regolamento perfetto bene bene no no ma io ascolto ai tommi quello che fa le whitelist esatto speriamo che non ci rubino whitelist speriamo che nessuno ci rubino le whitelist intanto siamo in live oh ce n'è primo vai Tom oh non è scomparso questa non ce l'ha mai Zammo Zammo prima lo devi ampliare il suo background vai spostiamolo ciao Zammo ciao Zammo un attimo solo io sono in live ti dà problema fare la whitelist in live ok perfetto perfetto allora sono a posto è solo che mi è stata allora in pratica ho fatto la vl mi è stata rimossa e quindi la devo rifare con un helper in su va bene allora hai ampliato il background si cioè ho messo ne avevo due o tre già fatti da me per il per la whitelist di impero tutti con lo stesso pg però con varie storie però cosa che ti hanno detto sotto quando ti hanno rimandato per il background che devi allungarlo eh ma devi raggiungere il minimo duemila caratteri perché tu sei a milleotto questo qua su su ma non con gli spazi inclusi eh devi calcolare gli spazi esclusi perché spazi inclusi nel duemila duecento spazi esclusi milleottocento e ce ne vanno duemila precisi il minimo chiediamo quello poi se ne arrivi a mille novecentottanta roba è così non è che ti rimando però qua c'hai quasi duemila cento in meno allora aggiungo ancora qualcosa e poi ti aspetto qua vai va bene ciao perfetto ciao perfetto lui aveva già la wl ma? ma gli l'hanno tolta per scarsa conoscenza del regolamento ok oh dip ma salve salve come va? come va? come va? bene bene vai teo ti taggo? tutto bene grazie un po' bene un po' bene un po' bene va bene non so bene niente bene ragazzi torniamo a fare le whitelist come una volta vediamo un po' vediamo un po' come andrà streamer di successo adesso vedrai quanti quanti spect farai facciamo quelle wl ma me ma me le guardo eh guardatele volentieri lo faccio per questo così chi vuole imparare vuole vedere un po' le whitelist come sono possono tranquillamente guardarsene comunque ieri live mi hanno buttato di 100 100 follower li hai tolti? no ma non te li toglio dopo una settimana twitch ok oddio no questo messaggio devo toglierlo dal nightbot aspetta sono in cerca di moderatori no sì ma non sono in cerca di moderatori quindi cancelliamo il messaggio e la gente entra in attesa wl scappa subito è una cosa che mi ha dimenticato ho fatto scomparso dal dai miei preferiti come mai eccolo una nuova riloci io controllo sempre subito tutto rimandata devi ampliare il background è ancora troppo corto vai spostiamo ciao live ti va bene comunque fare la wild live sì non mi nomi niente perfetto ascolta ho controllato una cosa tu sei appena stato rimandato per il background ma non l'hai ancora ampliato no l'ho cambiato tutto cioè l'ho fatto a cavo ok però devi raggiungere un minimo di 2000 caratteri siccome questo lo sappiamo anche in altri server quindi pensavo che andava bene pure no vabbè qua siamo su impera abbiamo le nostre regole su altri server non le loro no 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 è giusto giusto ma pensavo che eravamo ok eh comunque sì niente ti chiedo solo di raggiungere un minimo di 2000 caratteri 1900 insomma attorno a quei 2000 va bene va bene perfetto ah ma aspetta adesso cosa stai no niente niente no non so che te niente scusami perfetto allora vai rimanda il background ampliato e poi ti aspettiamo ciao ciao dopo si di porca ho un discord però è un po' abbandonato diciamo che non lo non è molto usato quindi però sì ce l'ho ce l'avrei ma non è usato con discord diciamo questo è il fatto pensavo a gente che vede v teo e dani sì davvero no io ho ho better discord c'è cosa? dico road to mode in prova bravo Tommy bravo asperaci no comunque discord ho better discord io quindi c'ho questo risulta questo risulta in questo modo diverso da quello che vedete voi voi l'avevate visto joker il fratello di gisogamer che ha vinto ha vinto 100.000 euro al casino no in live no ha fatto una strage una cosa assurda sì tipo 1200 per sì sì esatto è una roba del genere 200.000 euro ma ti rendi conto fra 200.000 euro beh non sono male fortuna hai due spicci c'è nel senso ma io non capisco io al caso sono proprio io so giocare non c'ho mai giocato io ok tipo il blackjack così ma non ho mai vinto tanto ho sempre vinto poco e invece c'è un mio amico vabbè qua non lo conoscete un mio amico intendo di qua in Svizzera e lui è andato due volte al casino in due volte si è fatto 600 franchi partendo con 20 franchi o 50 cioè certe persone sono proprio fortunate al casino cazzo c'è bisogno di fortuna perché per vincere 400 franchi in una macchinetta una sera e 200 un'altra sono bisogno di tanta fortuna sì alle macchinette se questo è sicuro beh sì ma poi Twitch mica non potevi fare il casino comunque tipo non ti monetizzava la live non so una roba del genere ho messo la categoria apposta quindi lo so eh ho visto una volta non c'era buonasera buongiorno Sepe buongiorno ciao raga sono riuscito a liberarmi un po' bravo bene bene così un po' di WL eh raga se cadete qui guarda solo da sotto raga mi arrivo subito no che so eh niente adesso è un po' che WL manca il tempo di arrivare si sono full mutati tutte e due perfetto numero è smutato uno chi è che si è smutato la taglia tutte e due io per quello che non faccio mai sto orario io nel orario 5 e mezza 6 e mezza ci sono un sacco di gente quest'ora si si vede un po' c'è un'oretta di guai nel momento guardo un po' di video su youtube tipo full come si chiamano aiutami sempre full ecco che sei sempre full la polizia sempre full c'è un botto di video che hanno fatto ma dove su youtube hai menti i video che faceva Kratis dimitri si ecco vabbè ce ne sono quei là quei due lì sono uno due tre quattro cinque video subito arrivo pulizia ma sempre full è uscito un signore alla polizia aziendale stradale beh che si dice quindi chi è il comando whitelist eh fallo pro ah non è più 16 attore 15 da quando è cambiata sta cosa è 15 la do mio da quando è cambiata vota quando lo dicono tutti in realtà è sempre stata 17 anni solo che si può entrare anche con 12 anni basta che sei una persona matura o c'è vabbè si chiaro chiaro però l'età mia è sempre 17 anni io mi sono alzato tardissimo e non ho ancora pranzato in tre e mezza mi sono alzato lì cioè cos'è 20 minuti fa neanche allora ci sta perché ho fatto serata io quindi Tommy Tommy sempre in giro sono tornato tardi anche se torno tardi poi mi sveglio sempre presto io non riesco ti giuro proprio così mi sveglio da nulla o per il call o qualcosa alle 8 sono in piedi magari torno alle 4 alle 5 vai c'ho 18 anni tu quanti ne hai te 18 ah pure te lagga il discord impero si ho visto anche a me sta laggando di brutto e non sono in live mamma mia non entro poche guadaglie da quest'ora non mi ricordavo così tanto portorio in quest'ora qui e poi canto forse anche domenica beh domenica pomeriggio magari c'è più gente a quest'ora eccolo la zammo è ancora lui Tommy dove è andato Tommy sono le white lì sto ma eccomi raghi ciao questo in attesa adesso vuole spostarlo fare la white e spostalo ok eccomi ecco Tommy c'è un cuore l'ho sposto già hai fatto i controlli sì sì ciao zommo eccoci ampliato eh beh sì ho scritto ho aggiunto una bella parte ok ok bene va bene va bene va bene ora siamo direi che siamo messi molto bene allora parlaci un po' di te vabbè ti ripeto comunque sai che Dani è live no? ti ricordi? sì sì poi l'avevo già fatta anche con te bene 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 parlaci un po' di te quanti anni hai da quanto fai rp allora ho 16 anni faccio rp da due anni ho giocato su vari server grazie per il follow sepe sepe grazie un po' più piccoli tipo benvenuto mi muto su discord perché così almeno non disturbo la whitelace finito lo dico genitamente in line grazie per il follow comunque sepe il tizio comunque si sente basso si sente basso adesso lo alziamo subito meglio ok va bene va bene ok io però ho visto che il tuo steam è di un anno e mezzo circa un po' di meno e tu fai rp da due anni hai detto hai cambiato steam ma perché prima ne avevo due mesi o tre poi è stato un anno sepe ok grazie per la sub va bene va bene ma grazie ok ok nessun problema ok allora se sei pronto possiamo cominciare con la well hai letto il regolamento generale il regolamento gang hai letto tutto ma la voce è bassa comunque lui quindi quindi sì la voce è un po' basta allora mi dici cos'è il power game allora il power game è l'abuso di una meccanica di gioco per fare un po' il volume di nuovo ma c'è la voce è bassa quindi si sente basso ok fammi un esempio di power game semplice dopo ti tolgo Tommy è quasi troppo alto a confronto a lui c'è il primo che mi viene c'è salire con la macchina su da una montagna grazie ancora sepe mi fai invece un paio di esempi insomma quelli che ti vengono di power game senza corpi veicoli e oggetti quindi quindi sei solamente tu in città senza veicoli oggetti e altre persone quindi cioè ok quindi oggetti inteso anche il cibo esatto e anche le armi esatto inventari niente ok niente inventari una potrebbe essere un power game potrebbe essere correre per per molto tempo o anche per cioè per del tempo su su magari delle rotaglie o su o su varie cioè su delle rotaglie da scalzo perché non è che nella vita reale vai dove c'è su delle rotaglie scalzo poi un'altra potrebbe essere quindi senza re cioè tipo delle montagne o delle colline si possono usare puoi anche usarle sì però non ci sono veicoli né altre persone cioè perché comunque un power game può essere anche correre cioè su da una magari spammare diciamo spammare salti e correre su da una montagna cioè perché se lo fai ci puoi riuscire ma è power game perché nella vita reale non ci riusciresti mi vengono questi due perché senza tutte senza gli oggetti corpi e niente non me ne vengono ti viene in mente nient'altro? no ok andiamo avanti cos'è il metagame? allora metagame allora prima di tutto il metagame si divide in tre categorie il metagame ic oc e lo stream sniping cos'è il metagame ic? cosa? cos'è il metagame ic? allora il metagame ic è quando io per esempio faccio un'azione vengo rapito da una persona che è mascherata e dopo il rapimento e tutto questo magari non per forza mi uccide magari mi lascia in un posto e io poi lo trovo in giro e magari lo riconosco dai vestiti o dai tatuaggi anche se era mascherato e questo qua non si può fare e un altro esempio di metagimici invece quale potrebbe essere? un altro esempio di metagimici un altro esempio di metagimici ma come vabbè che sempre che magari hai fatto una cosa diversa da un'azione o sempre con un'azione? non ho interato nessuna linea guida? allora con cioè magari faccio un'azione in cui si spara e tutto e io appena mi mi rialzo diciamo appena i medici mi curano mi ricordo subito cosa è successo in quel quell'azione ok va bene andiamo avanti quali sono le fazioni neutrali del server? i medici e poi ce ne sono altre due allora i medici cos'è una fazione neutrale? ci arriviamo anche per logica una fazione neutrale è una fazione che non può in nessun modo partecipare a azioni cioè a partecipare a azioni ok mentre è in servizio quindi quando è in servizio diciamo che sono obbligati a fornire sì cioè che non possono fornire assistenza insomma a lavorare sì quindi chi è che è obbligato in RP diciamo quando sei in servizio diciamo che non può rifiutarsi di venderti qualcosa i medici che ti devono curare poi magari i medici ok l'ho detto poi poi ce ne sono altre due ora non ti viene? eh mi viene da pensare per quello che hai detto tu pensando di logica potrebbero essere magari quelli che lavorano in dei locali no oppure dei meccanici mi raccomando ragazzi fate punto schermativo y punto schermativo comandi per vedere i comandi e punto schermativo y t per iscrivervi al canale youtube per vedere le repliche di tutte le whitelist che faccio mi raccomando ok concessionario è una e l'altra quale sarà? quindi concessionario medici chi è che non può rifiutarsi diciamo c'è chi è che deve deve dare servizio deve dare servizio per forza è la polizia ma non è neutrale ma non è neutrale vabbè non lo so è l'armeria ah l'armeria ok l'armeria un medico può svolgere assegni illegali? un medico in servizio? no e cuore servizio? fuori servizio si ok che tipo di armi può avere un medico in servizio? può avere solo il taser tipo un coltello non lo può avere? no solo il taser scusi se faccio una domanda hai già chiesto la domanda se un medico può compiere azioni illegali? si ok perfetto stiamo un attimo occupato niente tranquillo cos'è il perm ha detto? il perm ha detto è quando il quando c'è la morte definitiva del tuo personaggio e quindi il white quindi devi iniziare con una nuova storia un nuovo ok un medico può richiedere un perm ha detto si o no? un medico si perché cioè se è fuori servizio può fare azioni in servizio in servizio stiamo parlando ah no in servizio no perché non può fare azioni illegali in nessun caso quindi può richiedere un perm ha detto un medico no perché non può fare azioni illegali ok però se una persona ha una ruola ferite subite e trolla può tranquillamente chiedere il perm ha detto un medico lo sai? ah cioè se quando lo rianima si mette a correre tutto ah ok eh no questo qua non non lo so ok niente andiamo avanti che che altri tipi di permadet conosci? conosco il permadet e il permageil ok ce ne sono anche altri per cosa vieni permato anche? per dei motivi si ma come ci sono anche altri tipi di permadet ok si c'è tipo il permageil poi c'è il permaper defazionamento ok il defazionamento poi c'è il per il nofiero estremo ok bom va bene poi andiamo avanti quanti criminali e quanti poliziotti ci possono essere in un'azione freedom? allora il numero di criminali ho avuto il pronostico signori passerà la guai questi ragazzi sono voi va bene quante fazioni invece ci possono essere in un'azione freedom? ce ne possono essere due illegali e la terza può essere solo la polizia va bene steppe vuoi fare qualche altra domanda tu? sì vai continua ti faccio una domanda ok un esempio più che altro facciamo caso tu sei in autostrada ok sei in auto sei più o meno sui 180 km sei nei pressi del 400 ok una persona dal dal casino si getta in mezzo alla sua strada ok passa la strada giustamente tu che non lo vedi lo investi per sbaglio ti fermi inizialmente vedi che hai investito una persona che questa persona è stata atterrata appunto è svenuta però dici vabbè non l'ho fatta apposta cazzo me ne frega e me ne vado ok ci sono due errori fatte da ambo le parti sai elencarmeli il primo è lui che si butta dal tetto no no ho detto da nessun tetto no tu hai detto dal casino si ok era il casino si butta per strada ah dalla strada si ah ok allora il l'errore di quello che l'ha investito e che si è fermato poi ha detto cazzo me ne frega ed è ripartito ok quindi come come è definito questo errore è è un cioè è un vdm ok perché l'hai insieme a insieme a fail più dettagliatamente più dettagliatamente boh allora calcola che tu stai guidando ok investi una persona te ne vai dicendo che cazzo me ne frega a me di quello che cosa stai omettendo non lo stai aiutando ok non ti viene in mente quindi il nome dell'errore che stai facendo no mi viene solo in mente che stai stai facendo e per quanto riguarda invece la persona che è stata investita lui ha fatto qualche errore sì perché comunque andare su un'autostrada con delle macchine che passano così buttandoti a casa è no fear ok va bene per me per me va bene ok ci mutimo un attimo eh già è finito di fare la guai ti hai visto no no eh ok ancora dura sì sì l'ho già fatta una volta parlami delle zone rosse allora le zone rosse sono possono essere campi droga case mafie quartieri di gang e queste possono essere quindi una zona rossa potrebbe essere un quartiere cioè più che altro case mafie e punti di droga no solo campi droga non le case mafie non sono zone rosse una casa fazione non è una zona rossa sai cos'è una zona rossa sì ok cos'è la zona rossa è dove puoi sparare a vista appena arriva qualcuno ok quindi la casa fazione non è una zona rossa dove puoi sparare a vista vabbè vabbè no finché non c'è quindi campi droga quindi tu hai detto campi droga e cosa si fa su questi campi droga beh si si può sparare a vista hai detto e poi poi si possono raccogliere vari tipi di droga raccogliere e processare anche ok le vendite di droga è considerata zona rossa la vendita la vendita no no la vendita no perché non è il campo quindi no non è ok la vendita dov'è che può avvenire ci sono punti precisi dove può avvenire la zona rossa la vendita no la vendita della droga può avvenire ovunque in città o fuori ok bravo ui cosa sono le zone arancioni le zone arancioni sono le zone non sono le zone semi safe no ah mi ricordo se me l'avevi già fatta l'altra volta questa domanda è che forse non esiste si 100% la faccio sempre questa eh che non esistono no che non esistono sono un altro colore ma sono forse le gialle eh bravo ehm l'arancione ehm zone arancioni a me di altre zone assegnate ah sì continua tu dai zone assegnate da chi anche la logica ci arrivi le zone arancioni cosa sono tipo le case delle fazioni e diciamo che sì sì sono zone che vengono assegnate a a fazioni illegali alle mafie ok bravo bravo non sapevo come dire va bene va bene andiamo avanti poi cos'è il drive by ah il drive by eh allora prima di tutto il drive by è una è una specie di di intimidazione che una gang può può fare ehm con con una valida motivazione rp eh in cui il drive by consiste cioè ci sono due tipi di drive by il drive by mirato che quando ehm un tipo una persona di una gang ha avuto un problema con una con una persona di un'altra gang e e quindi quello che ha avuto un problema può organizzare cioè può fare un drive by contro la la gang di quello con cui ha avuto problemi ok e il e invece cioè l'obiettivo è di atterrare i i i gangster diciamo quelli attaccati mentre invece c'è il drive by tu stai vicino al mirato adesso si era al mirato ok quindi nel mirato l'obiettivo è detto che è quello di atterrare i gangster attaccati in che senso spiegati meglio eh sono per esempio eh cioè ti rispiego un gangster eh facciamo si ha avuto dei problemi con un'altra gangster ok ecco e l'obiettivo del drive by che viene organizzato è di atterrare i diciamo i membri della gang rivali allora quello che mi stai dicendo ora se mi dici se mi dici aspetta forse ti stai confondendo secondo me tu quello che mi stai dicendo è generico ok che vabbè l'obiettivo non è mai atterrare ma è solo spaventare ok tipo ecco ah ok forse si mi sono confuso allora il drive by mirato è quello dove posso puoi diciamo sparano sui muri o comunque per intimidire e invece il generico è quando una gang decide di fare di fare un drive by contro un'altra gang magari per una rivalità o per una discussione però cioè può passare sparando ma in ogni cioè in nessun drive by bisogna avere l'intento di atterrare quindi nel nel generico però non so come spiegarlo nel mirato spari tipo contro i muri e invece nel generico più contro i gangster però cioè non so come spiegarlo no no Zom ma non è proprio così no hai fatto confusione col drive by eh appunto non so come spiegarlo però facciamo così perché alla fine su tutte le domande che ti ho fatto fino adesso diciamo che un buon 40% lo hai sbagliato ok devi imparare a saper fornire un po' degli esempi consoni e devi anche rileggerti un pochino il regolamento ti rimando solo di 24 ore però mi raccomando leggiti bene tutto il regolamento gang leggiti bene anche la differenza tra generico e mirato perché le hai confuse e e poi torri domani ok vabbè perché al momento così non ti posso far passare ok ok ti saluto ciao 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 bene avevo fatto il pronostico eh ho visto ho messo di sì per sbaglio perfetto aveva vinto il no vabbè secondo me ci stava perché alla fine è molto vago non è preciso marco 1098l grazie per il follow benvenuto bene come white lister fallita oh nemesi ah nemesi oddio zammone921 grazie per il follow benvenuto bene 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 aspettiamo il prossimo aspettiamo il prossimo cutoci chi vuole essere la prossima vittima dai vittime che devo diventare molto in prova su dai 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 oh mi aspettate arrivo arrivo subito ma anche tu sei messo a fare quella arrivo niente sport dove è andato quell'altro mamma mia ci ha abbandonato l'altro per andare in assistenza danni metti la chat inclinata in che senso tipo 3d non ce l'ho non ce l'ho quella no no non è che la devi avere la devi modificare da OBS come cazzo si fa se mi stream cerco di ricordarmi vabbè facciamo dopo sì sì ma io sono tipi diversi chat così non di queste brutta e questa qui mettiamo questa qua normale bene bene arriva due minuti due minuti e arriva tommy ci ha abbandonati se c'è il prossimo è una paura di farle volti con noi c'è una paura anche da voi fa caldo cosa? anche da voi fa caldo minchia sono 35 gradi a me 32 da me beh beh dai fa più caldo da me che da te hai visto? mi chiedo come sia possibile e ci sta andare a fare una bella corsetta adesso 35 gradi passo dopo passo ti squagli sotto al sole è la strada che si fa da me fa un caldo torrido sono 35 gradi all'ombra il termometro esterno è all'ombra ed ha 35 gradi 35 gradi non vado a immaginare ho appena ricordato di aver lasciato la macchina al sole perfetto un piccolo forno madonna quella mia macchina è tutta nera no? ottimo si cuoci i biscotti vai chi vuole essere la prossima vittima? ti scrivono vai a morire correndo ovviamente in rp in rp stiamo parlando in rp ovviamente nessuno minaccia di morte nessun altro nessuno invita la morte nessun altro beh se no che mi raccontate chat persone persone oltre le cose persone oltre le cose che avete mangiato oggi ragazzi? cosa abbiamo mangiato? ho mangiato pasta o fredda pasta? pasta con sugo freddo e un bel risotto una cosa molto fresca non so ho caldo eh tutti hanno caldo Tommy ci abbandoni così facilmente ci abbandoni così Tommy mamma mia stavate parlando di me? sì che ci abbandoni oh Dani mi mandi il plugin di quante persone ci sono in una culla sì grazie si può bestemmiare nelle live di Dani? no che è scritto qua? che ti devo raccontare beh minchia c'ero anch'io ieri sai non 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 sono grazie per il follow ci stanno certe azioni proprio minchia grazie per il follow però l'abbiamo vinta alla fine nevesità non puoi dire che alla fine è stata brutta è durata una vita quanti ne ha fatti nevesi quanti ne ha fatti quali io ne ho fatto uno davvero davvero? sembra strano ma ho fatto una ho fatto qualcuno grande ma si che anche io regà in questi giorni ho fatto due esploratori ne ho fatti almeno 4-5 l'una l'una per azione ok ecco qua questo qui è lo script grazie caro allora open folder mattino arrivo ragazzi oh Dani comunque con la polizia a strage polizia oggi si è solo il primo round eh infatti c'è il secondo oggi me li sto guardando tutti fa biega fa biega non c'è più mica il secondo pg lui no no secondo pg però li ho tolgo tutti quanti e poi chi mi scrive anche xyna hai tolto xyna è l'admin del eh lo so ma ragazzi non gioca su non gioca in polizia no no lo so lo so dico è solo per dire anche asso diablo bravo Sosa bravo Sosa che si è fatto fare subito all'inizio dell'azione ottima utilità nell'assetto al convoglio ho avuto grande utilità ok sì sto pulendo il dipartimento dip perché c'è molta gente inattiva che non ha fatto la richiesta di permesso giustamente della licenziata perché hai capito che è stata e ti accetterò anche il permesso accetto i permessi anche di un mese di ferie ma devi ma devi per forza devi per forza scriverlo perché sennò io non posso tenerti in polizia capito fu eh eh oggi per ora ne ho licenziati uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dole tre dici persone vediamo vediamo più tardi si va al secondo round ma sto di b della polizia eh raga Wolfi c'ha gli esami quando finisci di fare gli esami si vede a lavorare se non dici ma infatti alla fine se fai un rp è un impegno che ti prendi è giusto che devi avvisare se manchi cioè giustamente se riesci a fare il poliziotto devi attenerti alle regole che ci stanno in polizia 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 mi sa che sono finite ma no ancora no io vado a pranzo cioè vado a mangiarmi qualcosa perché ma si fa con noi no eh vado a mangiarmi qualcosa mi muto però mamma mia Tommy eh io non mi ha pancia ho fame cosa devo dirti non mangiare non mangiare non si mangia già per 60 kg rotti oh Andrea mai vedi è tuo ma se n'è andato vedi deve essere più veloce a spostare la gente ciao ragazzi se anche voi siete giù aiuto no devi farli aspettare un po' lì comunque mi ha parlato un video su youtube e mi ha partito tipo aiuto perché le suspense vabbè Tommy ti aspettiamo ci pensa sempre a fare le white list oh giuochi io prima non volevo parlare perché avevo letto che la dovesse rifare con un helper oh Asuka ma chi si vede ma sei vivo ancora ma sei ancora vivo e che fai Asuka che stai facendo attualmente che fai? gioco a fare giochi in live se non lavoro ah che lavoro fai? no ma il problema non il problema è che non voglio fare le non voglio mettere la musica perché 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 poi le metto su youtube quindi poi mi mettono il copyright in realtà twitch non te lo non te lo prende il copyright eh ma io le metto su youtube poi si si ma anche le metto sempre su youtube non me lo silenzia mai l'audio quindi eh no dico si mette la musica copyright su youtube me la 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 ci sta ma come facevi tempo fa già lo facevi giusto se non sbaglio mi avevi già detto no sarebbe piuttosto però ok metto musica no copyright se c'è no no guarda si si fai come vuoi però a me ti vedo io ogni tanto faccio live metto musica da youtube tranquillamente qualsiasi mi capiti non vado a cercare no copyright non me lo tolgono mai l'audio eh no ho capito su twitch non te lo tolgono ok capito su twitch non ti tolgono l'audio però il problema è che se io la ricarico su youtube poi lì non me la quando me lo moltizzano ah tu vuoi mettere le live su youtube io ho le mie live delle white se le metto su youtube ah ok vabbè ho messo le ncs sperando che si ci sono ancora frate l'ncs è bruttissima mamma mia piuttosto non le metto cioè le ncs sono bruttissime le ncs quelle tipo house techno quelle là esatto mamma mia sono bruttissime piuttosto stiamo solo così per chiacchierare mi cerchierete e niente oggi poca gente in wide lista assistenza ce ne sono sì assistenza ce ne stanno sì sì un po' di persone vabbè aspettiamo un po' vediamo un po' che ci fa se c'è qualcuno se no per oggi se no chiudiamo un po' così un po' con con poca persone hanno paura di farle WL forse ma no Nemesi vieni a rifarla tu dai Nemesi vieni a rifarla dai dai che c'hai il coraggio ma no ma perché hanno tutti il plugin per vedere le stanze vedono che hai live e non vengono appena togli i live arrivano tutti esatto e toglielo allora glielo diciamo quando entrano questa potresti provare no ma non è che si toglie intanto vabbè è vero potrei togliere la più che altro è live per gli staffer quello rischio più per gli staffer fintano in canale è rischioso più per quello guarda ti dico è rischioso per quello lì c'è la tag live è per gli staffer non per i player per quelli che vengono a fare le wireless perché è rischioso è rischioso è rischioso Dani io ti mando questo dopo dopo si ci vuole da uno sguardo per quanto riguarda twitch ok dopo ho la live ovviamente perché vedo che ti mancano un po' di cosette cosa? è un po' di grafiche sai com'è si mamma mia dopo magari se a cui vuole dare una mano a sistemare un po' di grafiche per favore aiutatemi ho bisogno di quindi devo stare a un po' di grafiche mi mancano emote grafiche queste cose qui un po' anche tipo perché mi hanno mutato? non ti abbiamo mutato noi non lo so comunque stavo dicendo mancano mi mancano le emote anche il logo di fianco si si faccio la domanda da quel discord magari dopo dacci un occhiale Naza lo so che sei stato tu mo ti mo ti faccio ascoltare la live senza audio così c'è l'opzione guarda senza audio cioè per Naza ma poi di fianco mi appare ma poi che cazzo significa quella guarda la live senza guardare senza ascoltarci vai ascoltaci senza guardare ah no lui guarda senza audio sempre limitato lui guarda senza audio a volte mi è capitato guardare la live senza guardare cioè esce anche l'occhio al posto del mi chiedo come sia possibile stare in live senza guardarla non lo so però capita e non so il significato esattamente ok bastardo di Naza che aiuta metti il follow almeno Naza ah no segue no ma mi segue già Naza ah bravo bravo segue Naza no no segue Naza non mi segue sì sì mi segue mi segue sì sì dal 12 costo 2021 che Naza mi segue Dani posso fare una cosa per vendetta contro Naza vai un titolo no grazie per il follow of Devex benvenuto niente Naza ha giustamente maltrattato sospeso in live dove sta Naza in che canale sta eccolo qua perfetto anche bravo solitamente lui ci mette uno zero in più al posto di 60 lei fa 600 secondi l'ho mutato io ora su Discord a Naza così imparata ma che bastardo che bastardo si rivendica Naza Naza ma ste white list oggi arrivano o no che siamo tutti belli qua pronti per fare un po' di white list ma tutti quanti scappano è qualche persona coraggiosa che viene a fare le white list ce l'abbiamo un drabba meri quanti vuole ha fatto sepe mi chiedono che vuole ha fatto quante vuole hai fatto ah no io ci ne ho fatte un po' non lo so non me le contro vai le vuole non lo so una decina di più un po' edeling vai esportati questo ok me lo controllo un attimo aspetta allora sono rimandato player momentaneamente all'impero voce bianca buon salve me lo sposto giusto per capire un attimo aspetta modulo assistenza modulo white list cos'è che è lui? è rimandato per voce bianca ieri spostiamo oddio allora aspetta che è un attimo che muto prima spostano muto un attimo così evitiamo magari cose strane perché c'è gente che viene dopo questa settimana tra poco voglio mutarla vai vai è una staffer chrissa chrissa staff in prova ma non era parola non ti ho mutato no ti ho mutato solo una volta io gli altri mi sa che sono un'altra persona ops scusate ciao 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 nasa dice che lo sto mutando ma in realtà dice non è vero qualcuno altro lo sto mutando secondo te se glielo dico a matteo che ci sei ragazzo mi flamma si ma lo taggo matteo vabbè no se vuoi scrivere in privato dici guarda c'è uno che in whitelist ha chiesto mi ha detto che vi parla con te cosa però l'ho detto di aspettare in attesa whitelist e basta usavo una terminologia consona beh che dire e niente teo vabbè dai nasa deve lavorare nasa vuoi lavorare però devi lavorare vediamo vabbè ma non lavorerai molto con me aspetta raga che coni si è ammissima te lo sai ma non ha compilato un cazzo di niente ma lo sposto glielo dico un attimo facciamo nasa mod vabbè dai facciamo nasa mod io ho paura di nasa mod nasa mod nasa mod si nasa è bravo se nasa fa cazzate poi si prende i provvedimenti era appena bannata dalla mia twitch no nasa è un ottimo moderatore di twitch è un mondo da tutte le parti vai sposta coni vai glielo dico un secondo coni mi senti eh sì ciao caro senti ho notato che non hai compilato né il modulo whitelist né background dovresti compilarli eh sì perché sono nuovo guarda scusa scusa perché non lo so io questa cosa quindi sono venuto qua per chiedere ok quanti anni hai coni io ho 16 ok sei sicuro nei 16 anni sì sì nato in che anno io ho 18 09 2007 c'è scusa 2006 2007 2006 2006 eh ascoltami quanti quanta esperienze hai su fai su rp scusa sì eh guarda questo è nuovo veramente cioè cioè se avessi nato nel 2007 di la verità nel 2000 scusa nel 2007 di la verità no no 2006 mi son confuso io ok ascoltami un attimo ti posso dare un consiglio sì grazie buono figli grazie per il follow benvenuto per effettuare la whitelist qui su impero già che sbaglia sull'anno è un po' sospetto un minimo di almeno 250 ore per quanto riguarda 5m l'rp sì ma che data l'ha detto lui si consiglia di andare a fare spesa sul server di impero no whitelist nata nel 09 infatti me l'ha già detto questa cosa qui soltanto che non so qual è cioè veramente tu quando sei nata nel 2006 che mese io settembre allora sei comunque ancora con 15 anni eh il 16 di compiere del settembre quasi sì quasi 16 allora perché mi dici 16 anni che ti dico due volte che hai 15 anni eh sì sì quasi 16 mi scusi che devo che cioè non cambiavo quasi niente però sì perché secondo me tu hai ancora 14 anni perché sei 2007 devi compiere 15 anni e devi compiere 15 anni a settembre però se mi dici la verità dico a posto se continui a mentire possiamo anche legarti la whitelist sai vero per aver mentito sull'età non ho capito scusa potremmo anche legarti la whitelist se menti sull'età lo sai eh lo so lo so ma guarda che c'è lo scritto anche nelle impostazioni qua di discord comunque cioè credevo che tipo per qualche mese non cambiava niente comunque sì quasi 16 vabbè sepe prego continua pure ok ti stavo dicendo di andare a fare un po' di esperienza appunto nel server vl per poi un giorno venire qui e tentare di effettuare la vl qua su questo server va bene ok ma la new whitelist appunto sì e cioè come faccio ad entrarci c'è proprio ce l'hai l'invito del discord sì sì ok basta che vai sul basta che vai su fvm cerchi impero te ne escono fuori due impero whitelist quello che lo ho main e impero no whitelist sono nel sito proprio d'impero qua mi dice entra ora no no tu devi andare su fvm hai scaricato fvm sì fvm no eh devi usare fvm per entrare nel server d'impero scusa mi scarichi fvm poi scrivi una domanda ma grand theft auto l'hai scaricato lo sto scaricando lo sto scaricando perché prima ti giocavo da ps e adesso lo scarico da pc ok no perché per aprire fvm per entrare a giocare in qualsiasi server hai bisogno comunque del launcher di di grand theft auto e delle cartelle di gioco altrimenti non ti fa giocare in nessun server ah quindi prima di entrare in fvm devo deve entrare col mio account appunto no devi proprio scaricare devi avere il gioco installato nel computer di grand theft auto per poi installare fvm cioè fvm sarebbe solo un client alla fine e infatti quindi si scarica client fvm.exe no no ok quindi fvm l'host di tutto è grand theft auto l'host di tutto è grand theft auto ok ok appunto ok a posto comunque se hai dei dubbi tu vai sul supporto staff cioè nazza 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 contradita vabbè adesso non c'è perché è offline se tu contatti lui comunque lui ti spiega tutto ok comunque scusate del disturbo vai tranquillo buona giornata e buona esperienza ciao a posto ciao 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 nada supporto staff dai dai nada aiuta i pegli ad entrare che nuova entrare vabbè nazza comunque signori nazza a prescindere da ciò deve spiegare ai nuovi player come giocare su fvm perché scusami se no cosa va a fare il responsabile staff su server no whitelist dovrà pur dovrà pur dovrà pur insegnare ai nuovi giocatori di fvm come giocare su impero è il responsabile staff del no l cioè mamma mia nazza nazza non sei il benvenuto in live l'ho messo già subito anche veloce l'ho messo a lavorare a nazza l'ho messo a lavorare come mod al momento sei sospeso da questa chat ma io non ci credo ma guarda quel bastardo guarda quel bastardo a sospendere bravo bravo ma hai fatto una cazzata leva gli mod leva gli mod tanto poi ti riammette poi adesso lo sospediamo abbiamo un certo pipì in attesa whitelist vai io sto guardando prima edling perché è arrivato prima edling l'abbiamo spostato prima ha detto che sta aspettando matteo ok perché l'hanno rimandato per voce bianca anche lui ancora deve compilare e niente perché in pratica il ragazzo ci siamo accorti avesse diciamo il problema della voce bianca infatti è stato rimandato ieri ieri sera per voce bianca e ha detto che aveva bisogno di aspettare matteo appunto per parlare di questo a quanto ho capito ha detto vabbè aspetti in attesa whitelist e ho scritto a matteo in privato ma vediamo vabbè vabbè nasa ti ho già invitato a usare un linguaggio consono nooo nasa nasa deve sempre esagerare fra questo devo cancellarlo io questo veramente è lo schifo di napoli nasa è la rovina della campagna nasa evita queste cose io tolgo il mod io sono una ragazza che è sensibile e dovevi piacere chiuditi chiuditi nel tuo recinto nasa e resta lì nasa come sei diventato staff tu che non hai neanche il gioco vabbè flammatevi da un'altra parte gentilmente ma io non vando nasa non fa mare mamma mia guarda quell'altra che si ci mette pure a rispondere te non piangere hai ragione hai ragione comunque la gente potrà tranquillamente andare a prendere il link in live da me oh Ronnie Wayne ciao zio lo zio che non sapeva manco di avere un nipote in città sì ma intanto Tommy ci ruba le white list non so Tommy mi sa che vuole essere permabannato dalla mia live dalle mie white list sei stato riammesso eh sepe no ma mi sa che lo stavano aspettando proprio loro perché il ragazzo non aveva compilato né background in che senso che si deve allucrare no non ho scritto in privato cosa mi hanno scritto? ma non siete attenti? ah ok questo poi i messaggi li leggo dopo e ti sta palesemente flammando da mezz'ora ma allora adesso ti banno ti toggle mode e ti banno dalla mia live ciao Tommy dopo averci rubato la persona in white ti dispone andare un po' particolare si diverte con poco Nazza salve cari io ti consiglierei di mutare la live Nazza non penso a faccia sta cosa oh meno male che sei online io ti consiglierei anche io di mutare la live no no Nazza non lo farai non lo farai no non vorrei mai rovinare Twitch però se parla Matteo Bozzi lo devo fare per forza ma che vuoi scusa? come va ragazzi? molto bene ragazzo ok ok ma Nazza erai anche tu in azione ieri sera? quella durata 4 ore te o no eri impegnato con una persona che tu conosci molto bene no no evitiamo eh non no 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 aspettiamo un attimo Dari aspettiamo un attimo niente ha paura eccoci ho paura di ciò che hai detto Matteo mamma mia mamma mia mi ha riempito di complimenti non finiva più mamma mia era una cosa impressionante veramente l'ho anche tutelato Dari perché te ho detto delle cose e non conso sì ti ho detto tipo ti voglio è arrivato il vero moderatore di questo canale e se ne esce chi? il nostro Kiwi da quanto Kiwi? eh vabbè Kiwi risorge solo Kiwi risorge solo quando deve boh Dani ha parole tue tranquillo ti ragioni tanto a caso quando vuoi va sì ma tu pensi a Kiwi nel 2022 a Kiwi vabbè waitress in live c'è la stanza tesa waitress piena eh pienissimo hanno visto Dari hanno detto vabbè ma io che non ci vado può essere vabbè vabbè vabbò vogliamo mettere qualche canzone? le canzoni che conosco io? no niente di tornabile no 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 ciao dopo le mesi mamma mia sono le 16 e 20 ho un po' da solo tre white list e il frattempo stavo solo cazzaggiando quindi oh Kiwi cammino come qui no ti ho tutelato Dari ti ho tutelato eh ma ti pare tutelato Dari oh Naza pare che dico queste cose no niente oggi stimpina di discutere con Naza sto tutelando lo streamer qui ecco un vero staffer fa questo fai il moderatore pure su discord Naza ma anche in real quando esci sto vicino a te mamma mia la scorta la scorta personale quello ero io eh 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 che coglione è che lanza oggi viene di farsi flammare vedo un magnato un magnato un magnato un magnato un magnato vabbè parlo vabbè vado vado proprio in live Steve parla parla no posso dire certe cose ah ecco è il tipo che poi sono pure io un apoletano quindi non posso e niente magnato stiamo aspettando qualcuno che faremo che arrivano si voglio fare con danny il live perché non apre un canale twitch si può stimare anche a telefono il live nasa cosa fai pomeriggio ora la testa white ist è vuota aspettiamo che qualcuno viene vediamo oh c'ho ragazzi da testa white ist spostiamo ragazze ciao kiwi vuoi fare la guai la lista no 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 non voglio giocare bravo kiwi bravo adesso vi flamma tutti è come rito ma chi ma chi dà è che sto fra le chat dei canali cosa kiwi si lo sapevi le chat dei canali l'ho aperta e ho detto nasa fico perfetto io sono qui a fare un cazzo no kiwi mi sa che la vedono tutti quella no solo chi vede il canale solo chi solo chi è nella stanza no poi le chat puoi leggere anche i chat di stanze in cui non ci sei in quel momento eh si ma non so se il player non poteva solamente scriverci o non può proprio vederla no se entro un player puoi leggerla anche quel player ma si cancella la chat o no 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 devi cancellare i messaggi non si resettano le chat no no sono proprio delle chat effettive ma che merda sta funzione ma chi si mette in canale vocale a scrivere in chat noi cioè perché siamo magari tipo nasa quando non può parlare no e magari quando si fa un'assistenza con più staffer lo staffer dice la sua ecco se però tu le assistenze non le hai fatte quindi non comprendi certe cose ma i player la vedono i player la vedono la chat eh lo volevo flammare scusate però e niente e fra non sei manco capace a fare quello e quello è il problema ok oggi è flammant tra nasa e chiunque wake up ma nasa è sempre molto molto aggressivo con le persone ma è il suo modo di rapportare è il mio modo di pormi di stabilire il mio pubblico ecco allora da quel te che non apro file m secondo voi da una settimana da un'oretta secondo me da quando è che non lo apri battonata secondo me rise rise youtube wait a nani ciao ciao carissimo ciao carissimo qua io sono sì oggi ho voluto provare a tornare con le guai tra questa pazzia assurda però vediamo dai un gran ritorno che tutti aspettavamo lo logro dal 15 da due settimane due settimane oh ricuccio buongiorno ciao ricuccio caro siamo entrambi in live quindi ti chiedo di attendere qui a sbattimento con buongiornissimo a tutti nasa stream da cellulare ieri è successo una cosa incredibile ragazzi Dani ha fatto una persona Dani si è fatto un triardino 1v1 incredibile incredibile signori ci sta la clip ma ci sta la clip sì però non è pubblicabile fammela vedere fammela vedere vado a vedere live non la faccio vedere live no no è materiale privato materiale privato perché i miei kill sono sono reperti archeologici che sono talmente unici che sono talmente unici che è stato un 1v1 contro un triardino e lui ha vinto incredibile peccato che la era il suo triardino senza mani giusto per chiedere no era una della mano anche molto forte ah 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 vediamo molto forte senza la L molto forte molto forte incredibile molto forte e soprattutto subito hanno chiesto le clip a Dani perché molti dicono che è impossibile che ce l'abbia fatto però m***a Dani ce l'hai la clip Dani? Dani si ce l'ha la clip però non è obbligo di clip a Dani obbligo di clip a Dani obbligo di clip a Dani no obbligo di clip a Dani ragazzi possibile che citer Dani? appena vedono la tag live scappano ma si ma scappano io non so tutti con paura c'è boh vedono Dani webcam ma dicono no ma non c'ho la webcam grazie a Dio ah grazie a Dio è bello che bella questa live whitelist in live e poi non ci sono whitelist vabbè intratteniamo le persone in realtà si chiama torno nelle whitelist tra i punti non è andato comunque vediamo se la portiamo in live ma Nazza tu nella bio del canale Twitch hai scritto il setup e c'hai il cellulare che cellulare hai messo? che cellulare hai messo Nazza? iphone 13 iphone 13 bene dai mattino pozzo lei è attualmente non idoneo lei è attualmente non idoneo al server deve fare esperienza di rp incredibile incredibile signori incredibile vediamo siamo a 1 ora e 22 e se tra l'ora e mezza non arriva un'altra persona in whitelist la chiudo chiudiamo la whitelist la live per oggi no no Dani rimane in live per favore no 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 e riproponiamo un'altra sessione domani rimane in live e facciamo le whitelist allo staff le whitelist allo staff io non la passo non la passo passiamo a leggende dall'assistenza per fargli le whitelist leggende chissà che cosa direbbero la whitelist a sorpresa tipo chi si sposta in assistenza può essere spostato per fare la whitelist secondo me le assistenze vuote vuote spostiamo quei ragazzi in assistenza il secondo vai no sono d'accordo con voi l'assistenza in whitelist si fanno anzi lo spostiamo qua così gli rifacciamo rifare la whel che dite anzi forse che la faremo fare per la prima volta non ho parole non scorro giù perché sennò si vede non ho parole no ragazzi io dopo questa mi dissocio non hai paura di che qualcuno entri e dica parole bannabili dici tu sono in privato nazare puoi ridere anche qua se vuoi non sei vabbè io vado in game ci sentiamo più tardi c'è una whitelist mi non fate niente cioè abbiamo ancora 7 minuti di tempo per vedere aspettare alcuno ciao ricuccio ci sentiamo ciao nazza ciao danni ciao ciao ancora vivo così pare con qualcosa di rotto però si è ancora vivo che ti sei che è con che ha dirotto mi sono rotto il braccio no non è vero però mi sono fatto massa caduta dalla moto ragazzi grandissima quando fai la patente giovedì c'è l'esame giovedì c'è l'esame signori allora kiwi finalmente allora io ho conosciuto signori dovete sapere questa storia io ho conosciuto kiwi a ottobre settembre ottobre 2020 e lì già studiava per fare la patente signori eh andava ancora già a scuola guida del 2020 siamo a luglio 2022 e kiwi finalmente farà il teorico signori e verrà bocciato incredibile grazie per il follow manu gtv grazie per il follow bello grazie per il follow anche a don pablo tv grazie ragazzi grazie per il follow bello grazie per il follow bello con zero error bravo e gli altri l'altro ieri ne ho fatti dieci ma erano tipo notte erano le due ne facciamo uno ne facciamo uno in diretta eh vai vai ora condivido ne ho sbagliati due ne facciamo uno in diretta signori in test della patente e dare però il content quelli la due stai facendo o la o la la due la due la due proprio fatto 30 anni ciclista 18 cazzo per il follow ragazzi riusciamo a parlare una alla volta perché i nostri spettatori poi non comprendono da casa ma sei salito a 61 spectre ma che cazzo come botta eh qua qualcuno sta facendo aia aia botta no vediamo qua allora lo faccio io e tu poi in caso ok signor kiwi oh ma non hai l'alert ma perché non mi è venuto l'alert mamma mia no vabbè io oh ecco qua c'è l'alert come l'hai partito strano grazie per l'host strascia ma io che cazzo ma sti alert che non funzionano credo io non ho shoot out non funzionano ancora ce l'hai ce l'hai per forza di default ce l'hai per forza eh dipende dipende perché lui li ha cambiati quelli di default quindi si deve vedere ma tu che usi OBS o Streamlabs un ride è un'host ma io che cazzo forse i ride non mi vengono ecco perché seguite i canali di Strash ragazzi grazie mille Strash comunque che non me ne sono accorto scusami intratteniamo con con Kiwi che ha tolto la condivisione si alla fine non ci fa fare l'esame ecco l'ora è apparso qua eseguito l'hosting ecco qua mi è apparso sull'altro sondaggio questo è vero o falso secondo me è vero chi vi farà l'esame della patente la simulazione dell'esame ma perché per la sedia avviamo un pronostico e scriviamo chi vi sarà promosso in questo esame vai oddio Nazza mi avvi un pronostico fai bravo moderatore Nazza no sono da cellulare no non puoi faccio faccio ma sono curioso pronostici io perché non posso avviarlo sì no sicuramente perfetto conosciamo conosciamo via conosciamo dieci minuti oddio nonna che cinque minuti ho già finito sto sparando a caso che io no no le sto leggendo perché le sto sbagliando io una l'ho letta che era sbagliato non lo so vedremo alla fine vedremo alla fine è un sondaggio è un pronostico è un pronostico questo metto tutti i miei voti per i punti bene chi vi secondo la gente chi vi non passerà tutti i miei punti sicuramente ho 2346 voti ma viaggiando contro vento comunque secondo me sei troppo veloce dovresti riletterci un po' sulle domande anche io mi volevo leggere le domande questo che cazzo di non andare mai vista il massimo rapporto il 3 non c'è un player in attesa oh non c'è nessun player in attesa in realtà si dai votate il pronostico teo perché non attacchi la live adesso metto anch'io la tag è vero che ora le domande sono 30 con 30 minuti con 20 quanti minuti hai 30 con 20 minuti io l'ho fatto ancora con 40 con 30 minuti e sono anche tre errori adesso esatto io l'ho fatto io l'ho fatto i tre giusto giusto ma come mia madre mi fa wow allora stava fai schifo metti tu anche te la tag in live no no che tag no metti 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 no bene bene vabbè io l'ho fatto che si sciutette a chi tu potete io allora teoricamente cioè boh c da presenza l vabbè lasciamo per c no lcad esatto eh no questo lcad ok ma la domanda mi chiede a deve dare presenza l sì no sì perfetto lc allora qua è a cl acl esatto quindi è esatto sì è falsa l'ultima eh signori kiwi è stata promosso o bocciato ah dovrei rileggerla cioè però no non serve kiwi è stata promosso o bocciato faccio vado bocciato sì vai vado un attimo che devo tenere chiuso no bocciato eh lancia di la live lancia di la live bocciato vedi questo era palese scusa c'è chitto stop ah stop vedi tu non le leggi domande fra insomma devo già farti le ore che faccio perché non lego bene ma tanto ha vinto sicuramente no signori l'esame me le leggerò quanti ore hai fatto? cinque volte c'era quattro uno in più vabbè tanto me le ho bocciato teopoz e sepeofficial hanno vinto i punti scusa io ho messo i miei punti e ho ribeccato i miei punti allora quindi no ne hai ripesi di più ne hai ripesi di più teopoz se qualcuno ha votato si ve l'ha proposto no no non ha votato davvero no ma io questa vabbè no non c'ho parole se potessi lampeggiare o gli abbaglianti per avvisare che stai facendo un soltanto e vabbè niente chi vi signori non ha passato la whitelist ti togliamo anche la whitelist oggi non ha passato né la whitelist nell'esame della patente mi sa ma mi sa che la whitelist non l'ha mai fatta Kiwi in realtà Kiwi l'ha fatta la whitelist certo che l'ho fatta con chi l'hai fatta Kiwi la prima volta la feci la prima volta con Ninjo però non l'ha passata poi me la vabbè me la givarono bravo Kiwi l'ho fatta shit mecca fammi parlare venivo con con un gruppo di amici da un altro server poi per sbaglio uscì dal discord e quindi la dovete rifare e la feci con un sfibratore e la passate la prima volta qui questa coniugazione dei verbi è molto bella immagina non passate la whitelist è molto bella è molto bella ok sì io l'ho fatta la whitelist Kiwi l'ho fatta con Ninjo mi ha chiesto il mio nome twitch e mi ha messo la tag io la feci con principino con principino io con Natta la feci che cazzo mi ha mandato questo che è la feci con me io che palissa mi dispiace palissa sono io non me l'hai fatta me l'hai kippata che è ho kippato però che è il bambino il bimbo che è in live e se ciao ragazzi scusate allora che dite ma dai è stato in live tutti tutti siamo no no sono io sono io sono io gli altri trollano lui è Nelza Nelza no si si ma che so guardano chi vi passerà secondo esame abbiamo un altro pronostico vai avrà metti due minuti vai no 5 5 anche perché mi stanno andando tanto qua internazioni abbiamo il pronostico signore di nuovo vediamo la casotte viaggiando contro vento e perché non metafassi qui eccolo qua ora è arrivato grazie per il follow grazie per il follow bello passa passa dal canale ti ricordo con il prime la sub è gratuita oddio cioè questa qua cioè può essere posto prima oddio no non credo il signore di privato può essere posto prima di una patente per donare far via con semipariere cioè il prima che ho un dubbio è 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 un dubbio sai che segnale è questo ah no ok no perché ma lo sai che segnale è questo è la croce di sant'andrea e quando ho letto una croce di sant'andrea sono due binari e quando la metto una croce di sant'andrea avevo letto come vuole prendere la patente essendo semipariere teoricamente non ci dovrebbe essere eh kiwi non ci sta con le semipariere può essere messo con le sant'andrea vanno solo dove non ci stanno le pariere no no aspetta sicuri non per ricordare anche se ci sono le semipariere se non ci sono scusate ho fatto il teorico un anno qualche mese fa un anno o due mesi fa ho fatto il teorico viaggiando contro vento ora questa non solo per il suo appasto anche se volessi fare un'inversione o no ma oddio no l'inversione alla fine cioè vai sull'altra corsia è appunto quindi è vero solo per il suo appasto sì perché se tu fai l'inversione vuol dire che cambi completamente corsia e per forza la devi impegnare l'altra sì ma infatti là sta scritto la corsia di sinistra si impegna solo per il sorpasso no anche per l'inversione volendo quindi è falso ragazzi però fate rispondere a chi perché deve fare lui l'esame è vero è vero c'è ragione vai come ti senti tu perché poi hai sbagliato vabbè però non è che sei live davanti a 100.000 spettatori cioè giovedì chi ti aiuta nessuno oh e che padre infatti tanto vedeva sempre bruciato uno senza aiuti quindi metti di sotto quello è bravo ma non si applica che cazzo due roglioni stavolta abbiamo un fine come sta oh skip bene tutto bene ciao skip benvenuti in live skip qualcuno che vota su no ragazzi per corte no no eh si se no no grazie teo no no capito tutto bene skip qui è un'altra no scusa che c'è un pronostico attivo votate se chi vi passerà o meno l'esame della patente votate di sì che tanto metteremo che sarà sì secondo me secondo me secondo me qualcuno può anche che c'è un pronostico e ma come faccio a dare il risultato acqua non è ancora finito nessun dato no e niente quindi sa che nessuno vincerà se si vince il no perdiamo tutto è perché mi lagga in se no regale buona sera elfo che io vivo con questa connessione dove abiti nel sud italia ma che cazzo metti meno quale no lascialo farà kiwi lascialo farà kiwi lascialo farà kiwi se beh in questo caso sei se ne troppo di parte troppo di parte valla cambiare però ti voglio spiegare una cosa ma scusami ma se c'è il segnale che ti dice di andare a 30 e la strada è liscia come una pista di di maranello che cazzo fai vai a 250 perché la strada è liscia no però c'è ovviamente ma non c'è scritto solo eh non c'è scritto si deve regolare la velocità in base solo ma non è bene non è c'ha ragione io ho sentito un accento un po' strano da parte di sepe sepe da dove proviene allora vediamo a Milano Nord è il momento della verità momento della verità signori quindi è stato uno è stato di nuovo due tre ma come è il claxon e niente signori bocciato di nuovo e quindi vincono il no no raga ma questa cosa è l'ultima cosa che devi usare per strada quanto hai vinto hai preso i punti sei ripreso poi dice la carriera che è occupata da ciclisti e pitoni consigliabile suonare il claxon prima di sorpassarli ah no io li ho persi tutti cazzo c'ho due punti banale vedete che avevo ragione e non è vero aveva ragione voi mi sento se vuoi arrivare si può mutare un secondo diventamente devo chiedere una cosa un attimo a tutti è in live deve mutare l'ave un secondo muta un secondo si muta un attimo ragazzi eh grazie a tutti 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 era vera ok ragazzi quella della semi barriere della croce era allora ragazzi posso smutare posso smutare la live si se la smutare vabbè comunque ragazzi io chiudo qui la live allora ragazzi io chiudo qui la live vi ringrazio per essere mi ricordo che fare punto schermativo comandi vedere tutti i comandi punto schermativo yt per seguirmi su youtube e beh ragazzi se volete vedere altre whiter adesso proveremo a fare altre whiter still live vedremo come andrà con con i prossimi giorni basa al tempo che ho o meno ciao